Il 28 febbraio 1952, sulla rivista democristiana Libertas, Andreotti scrive una lettera indirizzata a Vittorio De Sica, che appunto definisce come pessimo servigio alla patria l'ultimo film che ha realizzato che si intitola Umberto D., che chiude, secondo gli storici del cinema, la grande stagione del cinema neorealista italiano. 21 gennaio 1952. A Bologna viene proiettato per la prima volta Umberto D. di Vittorio De Sica, che viene accolto in maniera tiepida sia dal pubblico che anche dalla critica. Partecipa allo stesso anno anche al Festival di Cannes, è dato tra i favoriti, ma viene sorpassato dal film di Renato Castellani Due soldi di speranza. Addirittura la regina d'Inghilterra, Elisabetta II, lo sceglie per partecipare alla settimana del cinema italiano a Londra. Ma anche qui non riceve nessun premio se non la possibilità di proiettare il film proprio a Buckingham Palace, alla presenza della Corte Reale. Il film in Italia viene molto osteggiato sia dalla politica e anche dalle istituzioni e ben presto non circola più nelle sale cinematografiche. Questo per vari motivi, soprattutto di natura politica, di legami che aveva Vittorio De Sica nei confronti di Andreotti, ma anche perché, come sapete, Vittorio De Sica era un po' un buon tempone, era un po' un furbastro. E aveva fatto una cosa interessante con Zavattini. Cesare Zavattini era stato il suo grande collaboratore, assieme avevano fatto quelli che sono i grandi capolavori del cinema neorealista, come esempio Chouchard, Ladri di biciclette, Miracola Milano, e decidono appunto intorno al 1951 di mettere in cantiere un nuovo film. Per questo nuovo film, che è ispirato alla figura del padre di De Sica, che si chiamava Umberto, il quale era veramente molto legato, Vittorio De Sica rinuncia a fare la regia del film Don Camillo, il famoso film con Fernandella e Gino Cerri. E dunque con Zavattini inizia la scrittura, la stesura della sceneggiatura e fa, diciamo così, una furbata, nel senso che presenta a quella che era la censura preventiva una sceneggiatura completamente diversa da quella che poi sarebbe stata utilizzata per girare il film. C'era all'epoca appunto questo discorso della censura, che in maniera preventiva dava o non dava nulla osta per la realizzazione del film. Dunque Cesare Zavattini e De Sica aggirano quella che è la censura preventiva cinematografica e realizzano il film, che alla fine è completamente diverso da quello che avevano presentato alla commissione statale. Ci sono comunque dei tagli all'interno del film, come ha ben raccontato Tatti Sanguinetti, come ad esempio vengono soppresse la scena che riguardava una protesta all'interno dell'ospedale e poi veniva cambiato il senso che riguardava appunto l'essere incinta della protagonista, Maria, la servetta, che non era più stata messa incinta da un carabiniere, come c'era nella sceneggiatura originale, ma soltanto da un soldato di leva. Per cui anche in fase poi finale per la rappresentazione del film vengono fatti dei pesanti tagli. Il film, come vi dicevo, è ispirato al padre di De Sica e per De Sica Umberto D. è uno dei suoi film preferiti. Nella la storia di Umberto Domenico Ferrari, che è questo anziano pensionato che vive in affitto a una camera in affitto in una pensione, che è gestita da una donna antipatica e che ostenta la propria ricchezza. Questo bozzetto, questo personaggio, ispira un po' a quella che è la borghesia italiana dell'epoca, arricchita, che sarà molto ben indagata da Michelangelo Antonioni nei suoi film. Qui purtroppo da questa pensione è costretto ad essere sfrattato perché non ha i soldi necessari per pagare l'affitto e decide quindi di farsi ricoverare in ospedale, ma ben presto anche qui viene dimesso. L'ultima carta è quella di poter fare la carità, ma alla fine però non ci riesce. Si tratta di una pellicola ancora molto attuale che va a indagare un tema molto importante, cioè quello della terza età, della solitudine e dell'esclusione appunto di tutte queste persone dalla società. Una società che hanno contribuito a costruire e che ora appunto, essendo anziani, non possono più frequentare, sono completamente esclusi, non riescono più a trovare i loro spazi. E questo lo si vede molto bene grazie anche al lavoro di appunto di regia che fa Vittorio De Sica, come ad esempio tutte le inquadrature fatte all'interno della pensione che mettono proprio in risalto questi piccoli spazi nei confronti proprio del protagonista. Il tutto fatto con dei primi piani serrati, delle inquadrature del basso che stagliano proprio la figura del protagonista nei confronti proprio delle scenografie. Il contrario accade invece nei luoghi aperti dove si prediligono molto i campi lunghi, i campi totali e per cui si sottilinea ancora una volta la difficoltà della relazione fra la figura dell'anziano e l'ambiente esterno, per cui tra questo uomo e questa città che in un certo senso non lo riconosce più. L'altra tematica fondamentale è quella della solitudine. Umberto di è un uomo completamente solo, ha soltanto il suo cane e soltanto questa povera servetta che in un certo senso si prende cura di lui. E la solitudine è una tematica fondamentale in tutto quello che è il cinema neorealista e soprattutto nella poetica di Vittorio De Sica, basta pensare ai protagonisti ad esempio del famoso ladri di biciclette. Molto interessante poi il lavoro che fa De Sica su un parallelismo ovvero fra la sequenza ambientata nella corsia dell'ospedale proprio con tutti questi malati allineati e una sequenza successiva che vede appunto le gabbie allineate invece dei cani pronti per essere soppressi. Per cui un destino verso il quale Umberto D sta andando verso appunto una fine tragica per levarsi di torno appunto da questa società che non lo vuole più. Come in quasi tutto il cinema neorealista non abbiamo, come poteva succedere nel cinema d'avventura, nel cinema giallo, nel cinema thriller, una situazione iniziale che con la narrazione cambia e porta al cambiamento proprio del protagonista e a una risoluzione finale della storia. Nel cinema neorealista questo non accade. Abbiamo una situazione iniziale che è uguale poi alla situazione finale. All'interno del racconto c'è soltanto, come avviene in Ladri di biciclette ma anche come avviene in Umberto D, la consapevolezza appunto del protagonista che non riesce a cambiare diciamo così la sua condizione sociale e la sua condizione umana. Il film è interamente interpretato da attori non professionisti. Nel ruolo di Umberto D abbiamo Carlo Battisti che era un professore di glottologia presso l'Università di Firenze e nel 57 va scritto anche il famoso dizionario etimologico italiano. Bellissimo è il ritratto che fa di questo uomo sconfitto dalla vita e si racconta che al provino con Desi che si presentò addirittura con due cravate perché era veramente molto agitato. E poi abbiamo Maria Pia Casiglio nel ruolo appunto di Maria, di questa servetta amica del protagonista che ha la sua prima interpretazione cinematografica. All'epoca pretese un cachet molto alto che le fu poi concesso da De Sica perché si era molto affascinato da quello che era appunto il suo volto semplice di donna appunto popolana. Interpreterà numerosi film appunto negli anni 50 e 60 come ad esempio Un americano a Roma al fianco di Alberto Sordi o il bellissimo film di Convencini, La valigia dei sogni del 1953. Per cui secondo gli storici del cinema questo film chiude quello che è la grande stagione neorealista sebbene Giampiero Brunetta nel suo libro La storia del cinema italiano dice che appunto la fame di realtà per quanto riguarda gli autori dell'epoca era tutt'altro che soddisfatta.